Laure magistrali, accendi il tuo talento. Ciao, sono Anna. Da pochi mesi sono laureata in scienze ambientali e posso dire che il percorso formativo seguito mi ha consentito di acquisire una preparazione interdisciplinare e specialistica, grazie alle differenti competenze scientifiche dei docenti nella ricerca avanzata. Nel corso del biennio ho avuto modo di essere una rappresentante degli studenti e quindi capire quanto effettivamente l'opinione degli studenti sia fondamentale per continuare a migliorare nell'organizzazione del percorso adattandosi alle sempre nuove esigenze.